Un saluto a tutti da Raffaele, DREK74 e benvenuti all'unboxing e prime impressioni del Elephone S2 Innanzitutto vediamo il contenuto della scatola che si presenta molto elegante con questa apertura a cassettino come già avevamo precedentemente visto in altri modelli della casa cinese troviamo subito il terminale che riponiamo da una parte e nella confezione troviamo una cover in silicone dentro una bustina fornita in dotazione un manualetto in inglese una serie di pellicole sia per la parte frontale che per la parte posteriore in quanto il terminale ha il vetro in entrambe le parti e in questa fascetta di cartone troviamo il cavo USB-Micro USB e il caricatore da parete con uscita 5V 1A quindi ricarica non rapidissimo dentro la scatola troviamo infine la graffetta per l'estrazione dell'esipa riponiamo velocemente la scatola e il suo contenuto e andiamo a vedere il terminale che è già acceso per quanto riguarda le prime impressioni relative a questo terminale devo dire che risulta abbastanza interessante con questa cornice in alluminio lungo tutto il bordo e il vetro anche nella parte posteriore che come potete vedere ha delle satinature a triangolo per quello che ho potuto vedere il display risulta molto buono il sistema abbastanza fluido e devo dire che risulta veramente molto interessante considerando una cosa che non vi ho detto e cioè che l'ho acquistato su Amazon con prezzo pieno quindi non in offerta a meno di 100€ per questo video è tutto a breve pubblicherò anche una recensione veloce di questo terminale e come al solito vi chiedo se vi è piaciuto il video mettete un like andate e magari iscrivetevi anche al canale YouTube andate a visitare il mio sito web e la mia pagina Facebook lasciando un mi piace e anche se volete fare una visita al mio profilo Twitter come al solito queste informazioni le troverete linkate in descrizione in basso sotto al video e vi aspetto per i prossimi video un saluto a tutti